Piobbico è il comune più vaccinato e quanto emerge dalla mappa dell'osservatorio epidemiologico della regione sulle somministrazioni eseguite nell'area Vasta 1 e che attessa una copertura con almeno una dose dell'88,1% dei piobbichesi. La città di Fano raggiunge invece il 79%, quella di Pesolo il 77,7%, mentre Urbino l'81,7%. Fanalino di Coda è il comune di Sassofeltro con appena il 60,3%, ma visti gli ottimi risultati ottenuti complessivamente ora si punta alle seconde e terze dosi, queste ultime raccomandate soprattutto agli ultra-sessantenni e alle persone fragili. Lo ha ricordato il direttore del distretto di Pesolo Elisabetta Esposto che ha sottolineato il sistema immunitario più debole in questi soggetti, un richiamo importante dunque anche in considerazione dell'aumento dei contagi registrato nelle Marche e in particolare a Fano. Per quanto riguarda la provincia pesarese, la terza dose va somministrata a distanza di sei mesi dalla seconda. Sul distretto di Pesolo per esempio già sono stati vaccinati più di 217 persone sulle residenze protette e già al 3 novembre ho finito la prima seduta vaccinale importante di richiamo e quindi sulle terze dosi. Stiamo procedendo insieme al Dipartimento di Prevenzione, in questo caso che ci darà la mano con il camper, per i centri di urni che erano stati vaccinati più tardi e quindi sei mesi gli scadono logicamente più tardi. Quindi tra novembre e dicembre verranno rivaccinati a terza dose tutti coloro nei centri di urni che vogliono essere vaccinati. E lei opera anche alla Caritas? Sì, io continuo ogni mese a fare una seduta vaccinale anche in Caritas per vaccinare tutte quelle persone che magari non hanno codice fiscale o che non sono magari pazientieni o non hanno il codice STP. Con una procedura amministrativa che il Ministero finalmente ci ha mandato, riusciamo a vaccinare anche queste persone che sono cosiddetti irregolari, clandestini, chiamateli come vuole, ma per la sanità pubblica sono persone uguali a tutte le altre. Quindi devono avere lo stesso diritto e la stessa possibilità di essere coperti dal Covid. Al momento, proseguito esposto, per le terze dosi vengono somministrati due vaccini a mRNA e quindi Pfizer a dose completa da 0,3 e Moderna a dose dimezzata, cioè a 0,25. È indifferente perché non ci sono indicazioni che chi ha fatto il ciclo primario con Pfizer deve per forza continuare con Pfizer, può anche modificarsi e fare Moderna o viceversa. Quindi non ci sono indicazioni specifiche di continuare con lo stesso vaccino. Inoltre c'è l'indicazione di somministrare la seconda dose a chi ha fatto il vaccino Johansson sei mesi fa, chi invece ha ricevuto all'estero il vaccino cinese o russo come lo Sputnik può presentarsi direttamente nei punti vaccinali. Se gli è stato inoculato da meno di sei mesi può ricevere solo una dose, altrimenti potrebbe ricominciare il ciclo e ottenere così il Green Pass. Negli orari di apertura dei PVP, consultabili sul sito dell'Azur Mar, che tutte le persone possono presentarsi anche senza prenotazione. Direi che tutto il personale, non solo i medici di base distrettuale, si è dato da fare, si sta dando da fare moltissimo per la buona riuscita della campagna vaccinale. Quindi spero che entro brevissimo si possa completare la vaccinazione sia nelle strutture che nei punti vaccinali comunali, di modo che cercheremo di affrontare questa quarta ondata, che al momento ha dei numeri abbastanza bassi, nella maniera e nel modo più sereno possibile. E comunque ecco, voglio comunque rinnovare l'appello a tutta la popolazione che è in grado di farlo, di andarsi a vaccinare, perché questa è una cosa fondamentale per poter affrontare una stagione invernale con molta, molta maggior serenità rispetto all'anno scorso. Il direttore del distretto di Fano invece ha ricordato l'attivazione di due camper itineranti e l'attività svolta sul territorio. C'è da considerare la positività riscontrata in questi ultimi giorni, soprattutto nei bambini che vanno a casa, che contagiano quindi i loro genitori e che magari i genitori che fino adesso non l'hanno fatto, ecco, il consiglio è di rivolgersi alle nostre strutture fisse oppure nei camper per eseguire la prima, la seconda o la terza vaccinazione laddove non è fatta. In questi giorni a Fano, che è il distretto praticamente con più strutture residenziali, stiamo completando la terza dose laddove abbiamo avuto il consenso, ma contemporaneamente stiamo facendo le seconde dose, le prime dosi, perché sono strutture dove le persone entrano e nello certo tempo escono. Abbiamo già in programma lunedì e venerdì prossimo il Fossombrone e Saltara, presso le strutture residenziali. Il camper, il secondo camper, agirà nelle strutture, nell'area interna, dove in questo momento c'è qualche medico di medicina generale che è andato in pezione e ancora non siamo riusciti a trovare i sostituti, ci daranno una mano per completare la vaccinazione.